Praticamente è solo pane, aringhe e cipolle. Tipico. Oh minchia è buono. È buono, è tipo lo spada affumicato. Il sapore è un po' di Sicilia quasi. Non male. Poi la cipolla, guarda. No, posso mangiare il stomaco vuoto. No, mi faccio qualcosa di... Che scusate sono stomaco vuoto appunto? No, non c'ho di mangiare il pesce così adesso di... Cappa. No, non c'ho di mangiare il pesce. Al posto di prenderti una brioche confezionata ti prendi un hamburger già cucinato. Cioè ti prego, guardalo, è orribile. Non cederò mai a Febo. Come ti sei trovato da Febo? Andati io, io veramente lo consiglio. Cosa hai preso tu? Febo tutta la vita. Non lo so cosa c'era dentro, però era molto buono. Era una crocchetta di patate. Sapevo un po' il retrogusto di segatura, però... E' un po' il retrogusto di segatura. Sì. Soprattutto, insomma, le biciclette, ma poi c'è un'altra cosa che rende famosissima Amsterdam in tutto il mondo, i fiori, ma poi c'è un'altra cosa ancora che proprio, insomma, emoziona gente di tutto il mondo e tanti, tanti proprio vengono in questa città per potersi finalmente fare... Una bella c***a! No, anche, anche... Ma soprattutto per arrivare ad Amsterdam e finalmente andare a vedere un bel museo, perché Amsterdam è la città con più musei al mondo, cioè in proporzione agli abitanti... Poi a vedere il museo delle trutture! Ma noi siamo venuti proprio per fare una tournée di tutti i musei! C'è un bocci per aver guardato il museo delle dure! C'è un bocci per aver guardato il museo delle mie amiche di tutti i musei... Non è un bocci per aver guardato il museo delle mie amiche di assadatta della tecca... Ma anche, anche, un vera c***a! Ci sono anche pocci per aver guardato il museo delle mie amiche di usS namely, la mia amiche di murdettina e delle mie amiche sono per l'eveстраzze! Grazie a tutti. 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 Tu ti metti lì, dici una roba sottovoce e ti senti. Eh sì, devi mettere proprio la testa nell'anello. Si sente di bella. Ti stai facendo brutto ai bambini? Falli giocare. Stai lasciando il posto? Ciao. 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 E non è male l'idea della foto alla via, perché comunque finiscono tutto qua. Hartenstraat. Hartenstraat. Ciao. 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 Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti. che lo usavano prima, ma è parte della nostra cultura perché siamo tutti suoni famiglie. La famiglia, certo, è la famiglia. Quindi credi che trovi un po' di spazio per Dino? Sì, credo che possiamo fare questo. Dove lo vorresti fare? Dove? Portato. La lettera. My dad's from Mexico, so I'm Chicano. I think in our culture is lettering, because we grow up with graffiti, abbiamo cresciuto con pinstriping lowriders abbiamo le car club e abbiamo bisogno di fare la lettering per la parte del carro la lettering è parte della nostra cultura il nostro lavoro deve dire qualcosa Deguiamo la rivoluzione tra l'Università e l'Università cosa pensi di questo? L'Università è contro noi perché siamo un grande paese e abbiamo la prima paese e abbiamo la prima paese e ci sono le due perciò quindi abbiamo la prima paese quindi abbiamo la prima paese in Amsterdam abbiamo, sì questo è un'attrofondazione per l'artista ci sono molte artisti che vanno qui 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 e che è l'unico e l'unico 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 è un'attrofondazione l'unico 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 è un'attrofondazione che è un po' l'unico è un po' il giorno vanno qui Ciao. 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 Ciao, ciaoлегziuto. Che gala di quello bebe!